Ultimo, ma non ultimo, abbiamo un mio omonimo a questo punto, Davide, che interpreta Harrow dalla serie tv e dalla DC Comics, a questo punto Harrow. I'm not super hero, someone save me from the hate, it's just another war, just another day in the world we live. I'm a hero, save me now, I need a hero, I need a hero, save me now, I need a hero, save me now. Molto bene. Un applauso. Allora, giuria, da quel che io ricordo, quando noi facevamo cosplay, sapevamo fare la metà delle cose che fanno oggi. Sapevamo salire la scaletta, scendere dalla scaletta. Noi salivamo benissimo, i gradini li scendevamo benissimo, però basta, questa gente sta diventando sempre più brava, immagino. Giusto? Manuel annuisce come se avesse 60 anni. Esatto, sembra tipo Clint Eastwood, che fa sempre l'espressione uguale, così. Allora, qui abbiamo un arco professionale a questo punto. Sì, sì, è un arco vero e c'ha 30 anni quest'arco qua, ed è un compound, un oneda. Quanti cinchiali portati a casa? No, questo io non ho fatto mai tiro con l'arco ed è un prestito questo qua. E anche tu fai arti marziali o simili? Sì, ho iniziato da poco a fare ninjitsu e in passato ho fatto due anni di karate e sette anni di kickboxing. Va bene, per chi non l'avesse capito, non fate arrabbiare i cosplayer, perché la metà di loro vi mena di box. Sono pericolosissimi. Allora, sai's Onze